Back in ETV Ciao ragazzi, benvenuti a Balconi TV Roma, io sono Mika e oggi ci sono passati a trovare Immoblon Ciao ragazzi, benvenuti Ciao, grazie L'ho detto bene? Sì Non è molto convinto, va bene Che cosa ci regalate, che cosa ci suonate? Faremo Dietro il Bosco, che è un pezzo ancora inedito come tutti i nostri 12 brani del disco che registreremo dopo domani, il nostro primo disco Fantastico, allora in anteprima per Balconi TV Immoblon Ciao Grande Siamo arrivati da pochissimo veramente, ci conosciamo da due anni tutti e tre e ci siamo chiusi subito sugli arrangiamenti dei pezzi dedicati subito alla creazione del disco, abbiamo fatto un po' di date ma siamo stati un po' chiusi comunque adesso stiamo per partire in maniera più attiva dal vivo Un'autoproduzione? C'è un'etichetta dietro? Dovrete attendere il 2017, sì Per il momento potete venirci a sentire, ci saranno tutte le comunicazioni sulla pagina Va bene, allora vi vengo a sentire anche io ragazzi Immoblon, questo è Balconi TV Roma, io sono sempre mica, questo è il terrazzo dello Yellow Bar Grazie Contessa Rock Hair e grazie a voi che ci guardate, ciao 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 Ciao